Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando dell'accoltellamento che c'è stato ieri sera nei giardini del Porcinai. L'uomo che era rimasto più gravemente ferito è stato operato e sarebbe fuori pericolo di vita, ferito anche un 25enne e intanto è caccia all'aggressore. E caccia all'aggressore ad Arezzo dopo il doppio accoltellamento di domenica sera, un violento episodio ancora una volta ai giardini del Porcinai a pochi passi dalla stazione ferroviaria, sulle tracce del responsabile e la squadra mobile della questura di Arezzo. Erano da poco passate le 20 quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e i sanitari dell'emergenza urgenza. Due uomini, entrambi magrebini, erano rimasti feriti da colpi di arma da taglio. Il ferito più grave, un quarantenne, è stato ritrovato sdraiato sulla pista ciclabile, raggiunto da più fendenti, in particolare all'addome. Al suo fianco una ragazza che chiedeva aiuto. Portato al pronto soccorso in codice rosso non sarebbe in pericolo di vita. Polizie e soccorritori hanno subito capito che anche un altro uomo era rimasto ferito nello scontro, di lui sembrava però non esserci più traccia. È stato ritrovato a poca distanza ed è stato portato in pronto soccorso con alcune ferite, soprattutto ad una mano. Gli inquirenti adesso stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della violenta vicenda. Dalle prime ricostruzioni pare che tutto sarebbe partito da un diverbio tra il quarantenne e l'aggressore per dissidi personali. Una lite sempre più violenta che il 25enne avrebbe tentato di sedare, ma ad un certo punto sarebbe spuntata l'arma e poi il doppio accoltellamento. Una maxi operazione antidroga, 24 le misure cautelari, ha toccato anche la provincia di Arezzo. Gli stupefacenti erano stati nascosti anche nei fustini del detersivo e nel succo di frutta. Ha toccato anche la provincia di Arezzo la vasta operazione antidroga scattata alle prime luci dell'albe condotta dai carabinieri del nucleo provinciale di Perugia al termine di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. Sono 24 i soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Le misure cautelari sono state eseguite, oltre che nelle province di Arezzo e Perugia, anche in quelle di Caserta, Latina, Lucca, Pisa e Varese. Dieci le persone arrestate ora in carcere, tre ai domiciliari, per altre undici invece è stato disposto l'obbligo di firma. Le indagini erano iniziate nei primi mesi dello scorso anno, quando grazie all'arresto a Toronto le Sinalunga di due cittadini nigeriani, trovati in possesso di oltre un chilo e mezzo di eroina, i militari erano riusciti a ricostruire una rete di connazionali residenti a Perugia e cittadini italiani, in grado di importare sul capoluogo Umbro notevoli quantità di stupefacenti dall'estero. Un gruppo unitario e piramidale che poteva contare anche su un chimico e corrieri ovulatori, che era solito utilizzare come base logistica un appartamento in affitto nel centro di Perugia, dove venivano stoccati e rivenduti centinaia di chili di droga, con la quale venivano alimentate le piazze di spaccio non solo dell'Umbria, ma anche quelle della Toscana, delle Marche e della Campania. Le indagini hanno poi permesso di appurare che il principale canale di rifornimento dello stupefacente era il nord Europa. Gli inquirenti ipotizzano anche collegamenti tra l'Associazione Criminale di Matrice Nigeriana ed esponenti della criminalità organizzata Campana. 250 kg la sostanza stupefacente transitata secondo la ricostruzione della DDA, almeno 80 kg quella sequestrata in tutta Italia in questi mesi di indagine. Scontro tra due furgoni lungo la Sette Ponti. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 11.30 nella zona del Maspino. Si è trattato di uno scontro laterale frontale sul posto. I sanitari dell'emergenza urgenza, un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo. Torniamo a parlare dell'inchiesta CEU perché anche il Movimento Consumatori Toscana farà parte del processo. Anche il Movimento Consumatori Toscana entrerà nel procedimento relativo alla vicenda CEU, costituendosi parte civile nell'udienza preliminare fissata per il prossimo 12 aprile. L'inchiesta è quella della DDA di Firenze per traffico illecito di rifiuti relativa allo smaltimento di scarti tossici delle concerie, il cosiddetto CEU, e per il coinvolgimento di aziende riconducibili a cosche di Andrangheta dell'area di Catanzaro, 24 alle persone per le quali è stato richiesto il rinvio a giudizio. Questo componente, che sembra tanto lontano dalle nostre vite, in realtà potrebbe essere ovunque, persino nelle case che abitiamo, si legge in una nota dell'associazione. Al di là della vicenda giuridica, ci preme ricordare come la Regione Toscana abbia stanziato ben 15 milioni per procedere con le bonifiche che tali somme di denaro siano state rese disponibili al commissario Vadalà. Ma siamo davvero sicuri, si interroga l'associazione, che il CEU si trovi solamente nei distretti oggetto di bonifica? Chi ci dice che questo prodotto non abbia raggiunto anche le case dei consociati? Speriamo che il commissario abbia effettuato una ricostruzione dei siti in cui è presente il CEU. Situazioni di questo genere, conclude la nota, devono essere affrontate con decisione e celerità, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per la tutela della salute delle persone. Non accettiamo compromessi che potrebbero costare la vita degli individui. A costituirsi parte civile anche il comune di Buccine. Proprio in questo territorio ci sono infatti dei siti inquinati scoperti dai carabinieri forestali nell'ambito delle indagini. Lo scopo è quello di ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali nei confronti di coloro che saranno riconosciuti responsabili. Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa. Questi tre obiettivi che CGL e Will hanno messo al centro dello sciopero generale nazionale dell'11 aprile. Quattro ore di sciopero che interesseranno tutti i lavoratori dei settori privati. Per la mattinata dello sciopero è in programma una riunione delle assemblee congiunte di CGL e Will Toscana che si terrà presso l'auditorium al Duomo in via dei Corretani a Firenze, mentre ad Arezzo i lavoratori terranno un presidio in piazza Sai Jacopo dalle 15 alle 17. Adesso invece parliamo dei tanti disservizi che i pendolari, aretini e valdarnesi hanno dovuto subire in queste settimane, in questi mesi che sono stati indubbiamente i più difficili. Abbiamo sentito il portavoce del comitato pendolari e valdarno direttissima, Maurizio Dare. Ecco, c'è questo incontro del 16 di aprile. Cosa vi aspettate e qual è la vostra aspettativa? Ma noi ci aspetteremmo che l'assessore Baccelli ci venga a dire che i nuovi treni regionali che erano previsti già dal 2023 invece di entrare in servizio nel 2025 magari stanno facendo di tutto per farli entrare in servizio nella fine del 2024. Sarebbe già un buon risultato perché sono treni super veloci che sarebbero utilissimi per andare sulla direttissima. Altre cose che ci aspettiamo è che siccome da una normativa nazionale di RFI è previsto che quando ci sono linee satune, come sarebbe di fatto la linea direttissima, nelle orari di punta, dalle 6 alle 9, dalle 17 alle 20, chi deve avere la precedenza tra un treno regionale e un treno a alta velocità e il treno regionale avere la precedenza, ecco ci aspetteremmo che l'assessore Baccelli ci venga a dire il 16 aprile che su questo ha parlato un RFI e quindi su questo ci saranno nuove disposizioni per cui dai prossimi mesi le cose potrebbero cambiare radicalmente per pendurare il valdanno. Invece di fare i linchini sarebbero a questo punto i treni regionali a prevalere tra virgolette su treni a alta velocità il che sarebbe anche quasi clamoroso, però se questa normativa di RFI prevede questo che venga finalmente applicata. Ma siete pessimisti o no? Siamo pessimisti perché vogliamo vedere un po' se con tutto il gran parlare che si è fatto in questi ultimi 10 anni sull'alta velocità ferroviaria, non ultimo anche il discorso del tunnel sotto attraversamento di Firenze per guadagnare 5 minuti ai treni a alta velocità, si possa davvero rimettere parzialmente in discussione questa concorrenza fra treni regionali e treni a alta velocità sulla via direttissima. Anche se poi ci tengo a precisare, si tratta più che altro di un percorso sulla direttissima di 10 km, quindi è roba di 5-10 minuti di percorrenza, sarebbe neanche una cosa eccezionale. In passato infatti i problemi ce n'erano molto meno, ma questo per il semplice motivo che se in alta velocità fino a qualche anno fa erano un po' meno numericamente di quelli che sono diventati poi in frattempo e un domani potrebbero aumentare ancora. Parliamo adesso del capolavoro di Piero della Francesca, la Madonna del Parto, appena un anno fa, l'ultimo sopralluogo da parte del Ministero su quest'opera. Come sappiamo c'è una contesa ormai davvero di tanti anni sulla sua collocazione. Nel mese di maggio dovrebbe esserci un nuovo incontro tra comune, soprintendenza e Ministero. Attualmente l'opera che Piero della Francesca dedicò alla madre è conservata nel Museo Civico di Monterchi, ma appunto una decisione potrebbe non essere lontana. La speranza è quella che l'opera resti nell'attuale museo, afferma il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, ma il Consiglio di Stato si era espresso in modo diverso. Secondo i giudici, la fresco è inscindibile dalla prima sede, che però oggi in pratica non esiste più, ovvero la chiesa di Santa Maria Momentana, che è stata in parte demolita e poi ricostruita per due volte, ma di fatto oggi è una piccola cappella cimiteriale. Insomma, vedremo come andrà a finire, come dicevamo, il mese di maggio potrebbe essere quello definitivo. Domani l'estremo saluto a Davide Perilli, il giovane vigile del fuoco che ha lasciato la moglie e tre figli. Il funerale si svolgerà proprio presso la sede dei vigili del fuoco di Arezzo, in via degli accolti, alle 15, dove già è stata allestita la camera ardente. Così saluteremo un grande pompiere, scrive un collega, Andrea Bindi, sui social network, un immenso amico. I fiori, precisa Bindi, non sono graditi, uniamoci piuttosto insieme intorno a questa famiglia. E adesso siamo allo sport, ritorna al successo, l'AMNBC Servizi che ha piegato il College Borgo Manero. Successo casalingo per l'AMNBC Servizi, che piega la resistenza del CRT Group College Borgo Manero per 85-78. Partono subito forte gli amaranti di cocci evangelisti, la SBA piazza un 15-4 di parziale iniziale, con il passare dei minuti Borgo Manero accorcia le distanze, andando a chiudere il primo quarto in svantaggio 19-12. Nel secondo quarto Arezzo tiene in mano l'inerzia della gara, ritornando a più 13 dopo una tripla di Djankovic, poi sono gli ospiti con due triple di Ferrari a rifarsi sotto, tanto che le due squadre vanno a riposo sul 42-34 per la SBA. Al rientro in campo Borgo Manero sorprende l'AMNBC Servizi con un break di 7-0 che riporta in equilibrio la partita. Gli ospiti trovano il 48-47 con un tiro dalla distanza di Benzoni, dall'altra parte una tripla centrale di Toia a riportare immediatamente avanti la SBA. Il terzo quarto si chiude in perfetta parità quota 56. Gli ultimi dieci minuti si aprono però con un'AMN molto reattiva, con due triple consecutive di Zocca che bucano la difesa a zona avversaria. I ragazzi di Cocce Evangelisti prendono qualche lunghezza di vantaggio, lavorando bene anche a rimbalzo difensivo. Il colpo decisivo provano a darlo i canestri da tre punti ancora di uno scatenato Zocca. Raggiunto il più 10, la partita sembra indirizzata, ma Trucchetti segna due canestri da tre in soli 20 secondi, riportando i suoi a meno 4. Nel possesso successivo Semprini segna un piazzato importantissimo, ma ancora Trucchetti firma il meno uno dalla lunga distanza. A questo punto Toia non ci sta e segna prima una tripla, poi serve un assist perfetto ancora per Semprini, che appoggia a tabellone il canestro dell'82-77. Dopo un'altra ottima difesa, ci pensa Djankovic, chiudere definitivamente la partita con un'altra tripla, la quattordicesima degli Amaranto, che poi gestiscono gli ultimi secondi con attenzione, si conquistano i due punti con il punteggio di 85-78. Sabato prossimo, ultima trasferta stagionale sul campo della S Solar Gallarate, unica squadra capace di violare il Palasport Estra in questa seconda fase, motivo in cui può cercare di prendersi il successo lontano da Arezzo. Siamo partiti molto bene, loro difendevano a uomo, li abbiamo messi subito in difficoltà, poi hanno deciso di fare 35 minuti di zona e si abbassano i ritmi e giustamente sembrava una partita a bassissimo ritmo, però siamo stati bravi a trovare le nostre soluzioni, anzi onestamente non avevamo più neanche allenato la difesa a zona e trovandosi 35 minuti così non è mai facile, invece sono stati bravi ragazzi. Adesso ci abbiamo le ultime due, vogliamo andare a vincere fuori casa a Gallarate la prossima, poi ci abbiamo Varese in casa, vogliamo sicuramente far vincere tutte le partite e riuscire a far giocare anche i ragazzi più giovani. Parliamo adesso invece di volley, un'altra vittoria, la quindicesima in campionato che regala alla formazione di coach Morelli uno storico successo. Nero Amaranto infatti con i tre punti conquistati a Cortona archiviano matematicamente la regular season al primo posto guadagnando così una doppia chance di promozione nei playoff. Il prossimo impegno nell'ultima gara di campionato contro il Sales Firenze sabato 13 alle 21 al Pala Maccagnolo. ed infine sono davvero tanti e importanti i miti dello sport italiano che arriveranno ad Arezzo. Prima tappa italiana per la manifestazione un campione per amico. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leonardo Castro Giovanni saranno appunto ad Arezzo il prossimo mercoledì all'Arena Eden che si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto. I quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado non solo i segreti per diventare dei veri campioni ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese e attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.